Buongiorno, sono Alessandra Marzano, consulente immobiliare di Remax Stella Polare. Oggi siamo a Bari, in Via Napoli, un punto nevralgico della città, perché è vicino al ponte adriatico, al mare e al centro. Quella che vi propongo oggi è una soluzione molto rara in zona. Venite, ci accompagno. Eccoci qua, si tratta di un piccolo stabile interamente costruito nel 2008. Da un doppio ingresso pedonale e carrabile accediamo all'ampio portile con un piccolo vano deposito e tanta possibilità di parcheggiare. Tra i livelli indipendenti e con doppio affaccio ci permettono di immaginarla come grande casa di famiglia, come piccolo condominio indipendente o come casa vacanza turistica. Ve li mostro uno ad uno. Al primo piano c'è un accogliente e luminoso Trivani, dotato di ogni comfort. Grazie al comodo ascensore raggiungiamo il secondo piano, dove ritroviamo una soluzione identica a quella del primo piano. Infine, al terzo ed ultimo piano, ci accoglie una deliziosa mansarda, anch'essa indipendente, con ampi spazi esterni, dove trascorrere momenti conviviali e di relax. Che ne pensate? Come vi dicevo, qui in zona non c'è nulla di simile. Se vi piace, chiamatemi.